E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividetelo con tutti i tifosi che conoscete, mi raccomando devastatelo di mi piace, seguite i network amici, leggetemi su fiorentina.it che ho fatto un articolo su Jovic, stasera vi aspetto non per la notte delle pontatine come ho detto in chiusura del video di ieri ma arriverà anche quella e oltretutto c'è un ragazzo che ci sta devastando con la grafica veramente livelli altissimi ma stasera vi aspetto per la live feccatoio con gli interventi di chi è abbonato e vuole salire ci divertiamo veramente come la scorsa domenica che abbiamo devastato. Guardatevi tutti i video fatti, mi raccomando, quello di ieri su Mandragora, lo stesso Jovic, abbiamo fatto il punto sul calciomercato delle altre squadre, il cattomercato del City voglio dire che è un'esperienza di gusto e sapidità e tutti gli altri. Quindi detto questo non potevo fare questo video con un'altra maglietta al posto di questa perché stiamo a commentare cosa? Stiamo a commentare l'arrivo di Gollorius, signori, il capo della trap. Noi, i Club Dogo non fanno trap però insomma gasano anche loro nel contesto. Allora in onore di Pier Gollo, in onore del nostro Infernal Beatbox, ho messo questa, io me lo immagino Pier Gollo arrivare alle visite mediche e non è che gli testano la pressione, gli dicono Sì ma fammi un beat, come Infernal Beatbox, sì va bene, spero che vadano così le visite mediche, un geyser assoluto, cosa anche che al di là degli scherzi e delle battute si può riflettere nel campo, nel senso che mi sembra un giocatore di personalità, insomma non un fuscello in balia delle correnti, non un mollo, insomma mi sembra anche un bel geyser, una persona con una sua spiccata artisticità, un individuo con una bella personalità, che questo fa sempre piacere avere dei bei geyser in squadra con il muso veramente deciso e venendo agli aspetti un po' più tecnici di questa operazione, ma ragazzi allora io sul portiere vi ho sempre detto che per me non era un'urgenza, nel senso che io al contrario di molti o di qualcuno ritengo che il buon Pietro Terracciano abbia fatto una buonissima stagione. Poi nel momento in cui hai un budget sufficiente o addirittura in eccedenza, ci può stare anche il ragionamento sul cambio portiere, ma non la ritenevo un'emergenza proprio anche per andare a valorizzare il campionato che ha fatto l'apsus freudiano che ha fatto Terracciano. I nomi che sentivo in giro, legacy quelli di Vicario, legacy quelli di Cragno, legacy quelli di Provedel, non mi sembravano dei salti di qualità così netti da andare a giustificare poi una sostituzione di Terracciano, cioè non me la sento detta papale papale, non me la sarei sentita, non me la sentivo di andare a bocciare per certi vesti Terracciano e magari andare a spendere 10 milioni per il Vicario di turno o per il Cragno di turno, onestamente non me la sentivo. Se proprio dovevi fare questa operazione, se proprio la sostituzione del portiere o se proprio l'acquisto del portiere era considerata una cosa da farsi c'erano pochi nomi per me che erano degni di sostituire Terracciano o di rendere valida l'operazione a costi ovviamente realizzabile per la nostra dimensione. Il primo era proprio Carnesecchi che per me oltre a Donnarumma, vabbè ma parlo degli emersi, degli ultimi emersi, degli emersi Barilla è quello più interessante potenzialmente, Gollini è un altro, secondo me Gollini è uno che ti rende comprensibile, che ti rende giustificabile il fatto di dire vado a sostituire Terracciano. Carnesecchi sarebbe stato forse il non plus ultra, si è infortunato, avresti avuto anche il modo di aspettarlo, quindi far giocare Terracciano, aspettare con tutta calma lui e in casa ci avevi un cespite di grandissimo potenzialmente valore. Ma Gollini viene subito dopo perché comunque è un portiere che io ritengo valido, è un portiere che è stato tra i migliori giocatori dei recenti anni all'Atalanta, su cui anche per certi versi si è fondata l'Atalanta degli ultimi anni, è vero che l'ultima stagione poi per Beghe, Casini, Questioni ha spesso giocato Sportiello per carità di Dio, ma comunque Gollini non è che è andato a giocare con tutto il rispetto all'Isernia, è andato al Tottenham, poi al Tottenham non ha di molto giocato perché davanti c'aveva non il primo piripicchio che passava ma c'aveva un certo signor Lloris, è lo stesso discorso di Jovic a Real Madrid, te credo che non gioca, c'ha Benzema davanti, ci può stare, stesso dicasi per Gollini e per il buon Piergollo nei confronti di Lloris, ma questo non cambia che Gollini per me sia un'ottima operazione, è anche un'operazione intelligente perché il ragazzo non è assolutamente vecchio, ha un'età assolutissimamente lavorabile, è intelligente perché è un giocatore che torna a casa oltretutto perché lui è uno di noi, è stato assolutamente ed è uno di noi anche delle zone se non sbaglio e oltretutto l'operazione è anche intelligente dal punto di vista economico perché se è vero l'accordo del prestito oneroso per 500.000 euro con un obbligo di riscatto che quindi andresti a pagare la prossima stagione di 8 milioni, a la cifra è contenuta, b non ricade in questo calciomercato quindi tu ti sei andato a prendere un portiere che per quel che riguarda le operazioni quanto meno che farai quest'estate più di tanto non vai a incidere. Sei andato a prendere un buon portiere, un portiere di personalità l'unico portiere, ripeto, assieme a carne secchi per me che giustifica il fatto di andare a discutere la primazia di Terracciano mettiamola così, poi bisognerà vedere chi giocherà tra loro due, bisogna anche vedere se rimarrà Terracciano perché c'è qualcuno che dice che non è detto che resti, io questo non lo so, io spero vivamente che Terracciano resti perché al di là del valore, mi viene da dire, dell'immenso valore se lo si considera come secondo portiere se lui farà il secondo penso che abbiamo uno dei migliori secondi in Serie A e sarebbe anche sprecato per fare il secondo vi ripeto ancora una volta, se a me avessero detto guarda che resta Terracciano come titolare l'anno prossimo alla Fiorentina e i soldi li investi in altri ruoli, a me sarebbe andato benissimo non tanto per una mera logica di risparmio ma proprio perché considero Terracciano un portiere ottimo un portiere affidabile, gli sono anche affezionato, quindi anche per questo io spero resti uno che non fa tanto il fenomeno che non l'ha mai fatto, che non rompe tanto i coglioni, che dà serenità, che dà tranquillità l'ha detto anche il buon sconcerti, l'ha detto il direttore Rario Balerdi, l'ha detto anche Rario Balerdi l'altra sera ha detto Terracciano è un portiere che magari non ha i colpi da fenomeno, i colpi di pazzia però è uno che ti dà nella sua normalità un'immensa tranquillità quindi anche per rispetto del buon Terracciano io non consideravo assolutamente prioritario sto ruolo non consideravo chiunque venisse un upgrade rispetto a Terracciano anzi, 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 anzi gli unici due che per i quali ritenevo valida nel caso se ci fosse l'opportunità senza andare a rompersi troppo i coglioni nell'uscire soldi adesso e subito erano in primis carne secchi e in secondo luogo Gollini tutti gli altri per noi arrivabili per me potevano stare dove erano e ci tenevamo Terracciano quindi è arrivato Gollini che considero un buon portiere è anche un geyser, chissà che ci delizi con qualche brano trap chissà che alle visite mediche gli chiedono un bel beatbox, capito? che ci fomenti un pochettino è un geyser, è un giocatore anche di esperienza internazionale perché ha fatto l'Europa, l'ha fatta con l'Atalanta l'ha fatta comunque per quest'anno, in questo sprazzo, diciamo l'ha fatta il Tottenham quindi è anche un giocatore che conosce la Serie A che conosce i consessi internazionali penso che se ristabilito, penso che se rimesso in moto possa anche entrare assolutamente nel giro della nazionale perché no, tutto fa brodo, va bene anche quello la formula è, mi pare, se è questa estremamente intelligente, non intacca niente ci portiamo un portiere di valore è un classico colpo da Fiorentina di quelli che piacciono a me cioè né gente da roboanza, figurine così né gente mediocre o di medio livello buoni giocatori, con età giuste con formule intelligenti, valorizzativi ci sta, secondo me spero resti terracciano poi lì verranno valutate le situazioni varie se mi avessero detto resta lui titolare no, non mi avrebbe neanche fatto schifo ma sei andato, sei riuscito a stare spesso in quella linea in quella sottile linea viola chiamiamola così che ti porta a fare affari intelligenti qui ce n'era una perché le tante alternative a terracciano sentite erano o costose, troppo oppure neanche di così tanto valore oppure anche tutte e due le cose sei andato su un profilo per me che ti può giustificare l'alterazione della gerarchia che non ti costa tanto che gasa quindi per me ci sta benvenuto Pier Gollo benvenuto Gollini facci divertire facci un beatbox forza Fiorentina vi aspetto stasera guardatevi tutti i video fatti un caro saluto